Seconda contro prima, una sfida alla vertice, quella che vede coinvolte San Vittore e Pianta separate da un solo punto nel girone G di prima categoria dopo 25 giornate. Un distacco che si è sottigliato nell'ultimo turno dove i forlivesi capolisti non sono andati oltre al 2-2 con il bagnacavallo, agguantando il pareggio solo in extremis. I ragazzi di Mister Zamagni sono redolci dal successo di misura sul campo del Castel del Rio. Andiamo dunque con le immagini subito al terzo minuto di gioco, l'occasione del Pianta. Una mischia in area, il pallone che viene in un qualche modo contrapposto e frapposto dalla difesa di casa. Primo squillo degli ospiti, la risposta invece dei padroni di casa con questa conclusione al sesto di Domenichini. Tiro che viene parato e ancora San Vittore sulla sinistra, il cross di Maurizio Lelli. Il pallone che viene ribattuto ci prova ancora Domenichini, ancora fuori la sua conclusione. Ma è un San Vittore che nella prima parte della prima frazione la fa da padrone. Ci prova anche Marini con un colpo di testa al 21esimo, respinto dal portiere. La risposta invece del Pianta, la 35esimo su punizione fedele, una punizione che non preoccupa l'estremo difensore Granata. Andando così nella ripresa sempre dagli sviluppi di punizione, altra mischia e in un qualche modo il portiere riesce ad avventarsi sul pallone. Alla quarta invece ci prova proprio il San Vittore con Farneti. Questo tiro alto sopra la traversa, proseguendo poi con le immagini siamo al diciannovesimo Totaro. Pallone scaricato, conclusione alta per lui. La risposta invece della Pianta sempre con fedele lanciata rete. Poi ci mette una pezza il portiere. Una partita all'insegna dell'equilibrio come poi dice anche il risultato e le posizioni in classifica. Qui vediamo la chance di fedele che ci prova dal limite dell'area. Pallone che viene respinto e ancora una volta Totaro è entrato nella ripresa al 28esimo su punizione. Si ferma dunque così a reti bianche il big match di prima categoria tra San Vittore e Pianta è 0-0.